Adesso però torniamo da Alexander, perché stiamo parlando di manovra. Vorrei capire da te, secondo te, se si arriverà a questo sciopero alla fine del 16 o se il governo tirerà fuori, come vogliamo definirlo, un coniglio dal cilindro con cui si riuscirà a trovare una nuova via di discussione con i due sindacati che hanno deciso per lo strappo. Sì, terribili intanto queste immagini con cui hai aperto il telegiornale. Stiamo seguendo tutti i momenti concitati di questa cronaca in diretta che anche Sky ci sta raccontando. Per quanto riguarda lo sciopero, noi abbiamo sentito proprio ieri come agenzialista il segretario della CGL Landini che ha confermato naturalmente lo sciopero si farà oggi di nuovo. Sia Landini che Bombardieri hanno confermato lo sciopero. Qual è un po' la valutazione di quanto sta accadendo? Per me si tratta di riempire un po' uno spazio politico attraverso questo sciopero. Ciò non significa uno sciopero politico, ma significa uno spazio di confronto, se vogliamo anche di scontro, di rivendicazione su alcuni temi che i partiti politici sembrano nella maggioranza aver un po' abbandonato per questa stagione con Draghi. Quali potrebbero essere i risultati però da questo sciopero? Questo lo vedremo il giorno dopo. A mio avviso non c'è uno scontro frontale tra il governo e i sindacati e si tornerà a sedersi sugli stessi tavoli. Lo stesso Landini nella nostra intervista ha raccontato un episodio in cui dice addirittura Draghi è stato messo in minoranza sul tavolo del Consiglio dei Ministri su alcuni temi riguardanti la manovra. Questo sciopero a me sembra un po' contro i veti incrociati dei partiti ed è anche un presupposto per una riapertura del dialogo. Infatti i sindacati lamentano questa manovra presentata in molti aspetti un po' a scatola chiusa. Grazie Alexander, questa sera abbiamo un po' meno tempo del solito perché ovviamente vogliamo continuare a dare ai nostri spettatori sempre in diretta le notizie che riguardano quanto sta accodendo a Ravanusa in provincia di Agrigento. Noi sicuramente ci rivedremo però prossimamente. Grazie a te, vi ascoltiamo, vi seguiamo.